Spesso mi viene chiesto perché durante la pulizia viso del metodo Eterno Giuvinezza non utilizzo il vapore come fanno la maggior parte dei centri estetici. L'utilizzo del vapore è una metodologia ormai superata che non fa altro che stressare, irritare e disidratare la pelle del tuo viso sopponendola anche ad uno stress termico. Nel metodo Eterno Giuvinezza, per effettuare un trattamento termopurificante al viso, utilizzo dei cosmetici funzionali come per esempio un gel particolare unito ad un ossigenante che mi permettono di ammorbidire l'epidermide senza però sottoporre la pelle ad uno stress eccessivo e termico. Questo mi permette di effettuare una pulizia del viso profonda. La pelle viene delicatamente liberata da impurità come edoni e smog andando inoltre a ristabilire un equilibrio idrolipidico. Consiglio un trattamento termopurificante una volta al mese con regolarità per avere un viso pulito, giovane e fresco.